Parliamo con Matteo Soncino, portiere del Pergo, sembrava fatta anche oggi una buona prova del Pergo, alla fine invece al novantesimo ancora un gol strano, una disattesa in difesa, colpo di sesta che è un po' sfortunato, il palo gol, insomma è arrivata ancora una scoputa. Sì, mi ha fatto una buona prestazione, vogliamo portare a casa un risultato positivo, ce lo stavamo facendo, poi all'ultimo minuto è arrivato il gol. Insomma questo è un periodo purtroppo dove abbiamo anche molto sfortunato. Come dicevamo, insomma il periodo è piuttosto negativo, arrivano tante sconfitte in fila, come mai comunque tutte le domeniche si prende un gol per un motivo o per l'altro? Sicuramente dovremo lavorare in settimana per cercare di stare più attenti e limitare gli errori per cercare di non prendere gol, però è anche vero che alcuni gol sono venuti vedi quando il minorezza la settimana scorsa calcio a punizione sul mio palo e prende in testa il nostro giocatore e va dall'altra parte. È un periodo che gira anche male. un perco, un perco comunque che fa sempre la sua partita, non gioca mai male, non perde mai nettamente, però insomma arrivano sempre le sconfitte. Cosa bisogna migliorare? La concentrazione, l'attenzione e cos'altro? Sicuramente dobbiamo migliorare l'attenzione e cercare di portare a casa punti. Grazie. Grazie. Grazie.